Come è possibile che un titolo finanziario si gonfi e si sgonfi come se fosse una bolla? Ma perché una bolla? Una bolla finanziaria. E per spiegarvi cos'è una bolla finanziaria devo prima spiegarvi la legge della domanda e dell'offerta, che io per l'occasione ho gloriosamente soprannominato, la legge del pizza balla! Pizza balla, portiere dell'Atalanta, figurina numero uno dell'album Calciatori Panini. Il pizza balla era rarissimo, esatto! Tanto è vero che a scuola elementare da me si era diffuso il famoso detto quando il compagno di banco scartava il pacchetto di figurine. Trin, 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 quell'altro. Uè, uè, c'hai il pizza balla? Aspetta. Trin, 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 trin. No, è no, perché il pizza balla non ce l'aveva nessuno in tutta la scuola tranne uno. Rino, mio migliore amico nella vita, peggior avversario nel campo delle figurine. Perché a me il pizza balla di Rino mi è costato cinque sacchetti di biglie, 650 figurine, praticamente tre album completi, e metà della mia merenda per l'intero anno scolastico. Praticamente... Però poi alla fine il pizza balla... ce l'avevo io. Uè, uè, c'hai il pizza balla? Sì. Ora capite che se il pizza balla non lo avesse voluto nessuno, io non l'avrei pagato così tanto. Invece tutti vogliono il pizza balla, il valore del pizza balla aumenta. Legge della domanda e dell'offerta.